Vantaggi ce ne sono a diversi livelli, ma più che vantaggi direi che è una situazione da cui non si può prescindere. È quasi un obbligo per riuscire a rimanere aziende in un mercato competitivo, è quasi un obbligo per rimanere aziende in un contesto ambientale e sociale che pretende di avere un cambiamento rispetto all'attività dell'azienda stessa. I benefici sono sicuramente a diversi livelli, a livello interno stiamo parlando di una trasformazione che coinvolge tutto il personale di un'azienda verso degli obiettivi comuni di altissimo spessore. Coinvolge i dipendenti a conoscere quelle che sono le strategie a medio e lungo termine, non soltanto quelle a breve termine. Sono impatti che si hanno a livello sociale, a livello di conoscenza di quello che è il perché facciamo parte di un'azienda, perché stiamo facendo il lavoro che stiamo facendo, quali sono gli obiettivi che il nostro datore di lavoro si è dato e quali sono gli impatti che poi questi obiettivi avranno non soltanto nel nostro lavoro ma nella società in cui viviamo. Per cui sicuramente uno dei primi benefici è quello di un engagement di tutto il personale verso un modello nuovo di vivere la vita lavorativa e la propria vita, contestualizzata proprio in un mondo che è cambiato. Altri obiettivi sono sicuramente legati alla sopravvivenza stessa dell'azienda in un mercato competitivo che si sta trasformando. Si sta trasformando perché la comunità europea, la comunità internazionale, Europa in primi sicuramente, sta creando nuove strade, nuovi percorsi attraverso direttive che poi devono essere recepite dagli stati nazionali perché le aziende e i sistemi produttivi si modifichino verso un sistema a diverso impatto e a minore impatto. I cambiamenti climatici ovviamente oggi non sono più in discussione come qualche anno fa. Quello che è in discussione è come accelerare la trasformazione del mondo produttivo e della società perché ci si adatti nel miglior modo possibile a quelli che sono gli effetti ormai inevitabili dei cambiamenti climatici. Ma per produrre nel medio e lungo periodo invece un nuovo modo che questi effetti li modifichino radicalmente. Quindi uno dei benefici sicuramente è quello di riuscire a rispettare la compliance normativa che ci viene imposta in primis dall'Europa e poi dagli stati nazionali. E poi sicuramente quello di riuscire ad adattarsi ad un mercato competitivo che si sta sicuramente riadattando a quello che sono le nuove richieste da parte dei consumatori. Per cui oggi i consumatori sono molto più informati di una volta, sono molto più sensibili di una volta, sono molto più disponibili a sacrificare qualcosa in più pur di avere la certezza che il proprio consumo è rispettoso dell'ambiente o rispettoso degli impatti sociali dell'azienda dove produce i propri servizi, i propri prodotti. E poi un ulteriore impatto è sicuramente a livello di sistema. Un ulteriore beneficio è sicuramente quello di sistema perché stiamo andando verso un mondo, uno scenario economico che vede le imprese molto più collegate di prima. Quando si parla di economia circolare non si parla soltanto di recupero di materie e materiali, si parla di connessioni tra aziende, si parla di programmazione che non è più una programmazione che rimane all'interno di uno stabilimento, di un'impresa. È una programmazione che deve per forza prevedere la connessione sin dalle fasi di pianificazione di più imprese, più sistemi. Per cui questo è sicuramente un altro vantaggio, quello di riuscire a connettere il mondo produttivo tra soggetti che fino a ieri si parlavano poco, si parlavano solo all'occorrenza. Ecco, l'economia circolare è sicuramente questo quello che deve avviare.